Io sono Razio, perché mi dovrebbero votare? Te lo dico io perché dovrebbero votarti, perché sei una persona eccezionale, una persona che lavora come Italia, ho visto pochi, lavori per il partito di Forza Italia e lavori per tutta la coalizione, gente come te ce ne dovrebbero essere un migliaio e con te saremmo sicuramente pure di strade invece. Grazie, grazie.